Salve signor Cassino, buongiorno, buongiorno, ho qui i suoi risultati, allora in ottima forma però le ho prescritto una dieta ipercalorica in quanto le rilevo un sottopeso, questo però ovviamente le consiglierei di integrarlo in una possibile formazione di sport, quindi io le consiglierei al diito la palestra o qualsiasi tipo di esercizio che possa aiutare a me mettere sul massimo muscolare in quanto questa dieta è ipercalorica per mettere sul massimo. Grazie. Dai uomo, cattivo uomo! Dai uomo! Su! Ah si muove o no? Non ce l'ho, non ce l'ho. Senti, abbiamo dato una dieta ipercalorica perché non vi metto il massimo. Si, certo, si vede. Vabbè, adesso vi faccio un piano di allenamento per mettere sul massimo. Allora la scheda è preparata per te, ovviamente sono esercizi, infatti posso perché hai appena iniziato ad andare in palestra e non so se li conosci tutti. No, effettivamente non ne conosco molti, sapresti spiegarmi quali sono? Sì, ti chiamo subito Matteo e così te li spiega. Matteo lì è un attimo. Ma non è un po' di scherzi. Potresti spiegare gli esercizzi su questa scheda che muovi con estra non mi conosci ancora? Allora, come dice, 20 secondi di plank e 20 secondi di push plank. Allora, parti così con il sedere contratto e la scheda inalcata e le punte che spingono in avanti e andare attento da contrarre gli addominali e successivamente passi in posizione dei piegamenti, così. Sì, ok. Per 30 secondi. Poi qua ci sono affondi 4x18. 18 totali. Parti in posizione dritta e ora in avanti. A questi puoi anche integrare un peso successivamente. Poi? Piegamenti 4xmax. Più sovraccarico. Allora, generalmente si punta ad arrivare al cedimento con un disco che sia da 5 a peso maggiori, diciamo, sulla schiena. Finché non smetti, finché non riesci a chiare più su questo. Ok, ok, grazie mille. Allora, qual è l'amore? Allora, ho detto che il miglioramento non sempre neanche pubblico. Certo, con uno stile di vita sano si può raggiungere qualsiasi obiettivo. Vabbè, allora sono contento di continuare. Grazie, grazie.